buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti al nostro oracolo angelico giornaliero andremo a vedere due carte sono già fuori andremo a vedere quali sono le energie di oggi o dei giorni intorno ad oggi e questa lettura è valida per il momento in cui la incontrerete e la vedrete giriamo le nostre cartine nel frattempo prendo anche queste e ragazzi allora intanto vabbè i miei studenti wow che belle immagini i miei studenti possono comunque cominciare già a mettere in pausa a guardare le immagini non essendo tarocchi classici reader white le rappresentazioni grafiche sono molto particolari e lasciano grande spazio alla lettura intuitiva ecco la nostra cartina ed eccole qui perfetto cominciamo ragazzi cominciamo e vediamo un po che cosa abbiamo oggi ok vediamo qui dunque abbiamo un 5 di bastoni un 4 di coppe e la carta della morte cominciamo l'energia quindi cominciamo la giornata quindi con l'energia del 5 di bastoni o forse in questi giorni sta accadendo qualcosa che ci crea situazioni di difficoltà con gli altri il 5 di bastoni non è una persona che non è una persona cattiva non è una persona che vuole rompere le scatole il 5 di bastoni è qualcuno che viene spinto spinto semmai a ad avere degli atteggiamenti un po come dire accesi ecco questo 5 di bastoni in particolare molto acceso perché perché se nel normale mazzo di tarocchi reader white il 5 di bastoni rappresenta il conflitto magari anche giocoso fra persone ma è comunque pur sempre un conflitto combattuto con i bastoni in questa carta non ci sono solamente i bastoni ci sono pure i draghi nel mezzo questa è una lotta fra draghi cosa accade aggiungendo il drago beh se già l'elemento bastone corrisponde all'elemento fuoco aggiungendo il drago noi il fuoco lo sputiamo proprio quindi sicuramente una lotta fra draghi conferisce al significato della carta un valore ancora più acceso ancora più determinato e più aggressivo quindi insomma li stiamo litigando con qualcuno in questi giorni in questo periodo oppure magari c'è una situazione di maretta con alcune persone o con una persona io credo proprio che questo conflitto si vede fuori cioè si è visto fuori o si sta vedendo fuori e anche se voi magari siete persone civili che non arrivate ai coltelli che non tirate fuori le pistole e che non alzate le mani che già sono grandi cose nella nostra società di oggi già arrivare a questo è tanto perché tutti siamo stressati tutti siamo fuori di testa e tutti arriviamo a commettere atti estremi in certi momenti beh tutti sto generalizzando ovviamente ragazzi però capiamoci la nostra società in questo momento non è proprio messa bene questa è un'epoca storica nella quale siamo tutti messi fortemente alla prova sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista emotivo e purtroppo chi non ha un una grande capacità di autocontrollo a volte poi sfocia in gesti di cui si pente quindi se voi sapete per esempio di avere un brutto carattere state molto attenti in questa giornata in questi giorni perché potrebbe uscire fuori il peggio di voi e non è il caso energia difficile da gestire ma ma andando avanti abbiamo una carta da quattro di coppe cioè noi stessi non siamo contenti di dovere fare tutto sto ambaradan tutto sto patatrac non è quello che vogliamo non è quello che desideriamo noi vorremmo una condizione più pacifica sia dentro di noi sia fuori di noi noi vorremmo una condizione più serena più appagante invece ci ritroviamo con un quattro di coppe che non è appagato manca qualcosa non dico che non abbiamo nulla di cui essere felici perché veramente ragazzi l'ipocrisia lì sarebbe al top nel ventunesimo secolo non avere nulla di cui essere felici significa non sapere proprio cosa significa autogestirsi emotivamente tutti abbiamo qualcosa di cui essere felici tutti e c'è chi di noi ha la salute che è già una gran cosa c'è chi di noi ha una famiglia c'è chi di noi ha persone che gli vogliono bene c'è chi di noi ha benessere sotto tutti i punti di vista almeno una cosa di cui essere felici ce l'abbiamo è inutile che facciamo la storia del mai una gioia che non ho mai sopportato vabbè a parte il fatto che io essendo coach cioè proprio per per mia professione non posso sopportare qualcuno che cammina dicendo mai una gioia ogni 30 secondi cioè sono il mio lavoro quello del life coach è esattamente l'opposto è proprio tutto il contrario di questo principio che sta dando tanto di moda adesso però ecco io vi posso dire che in realtà secondo me ci renderemo conto con questa energia che in effetti vogliamo qualcosa di meglio che non possiamo vivere in questo conflitto sia che si tratti di un conflitto esteriore con altre persone sia che si tratti di un conflitto che noi abbiamo con noi stessi non possiamo viverlo così non possiamo gestirlo così dobbiamo trovare il modo di essere più appagati perlomeno con noi stessi ed ecco che come ultima energia abbiamo la carta della morte cioè la carta del cambiamento e della trasformazione infatti se voi guardate qui in questa carta c'è un bimbo un bambino che parla con una sirena e che non è contento nella carta successiva della morte questo bambino offre un mazzo di margherite alla morte cioè è il bambino che capisce cosa deve fare per essere più contento per avere di più e per essere più soddisfatto deve cambiare e deve offrire qualcosa alla morte morte intesa in questo caso come entità energetica come gregora come per farvi capire per chi non è dentro temi esoterici io offro io faccio un'offerta a san francesco per ottenere in cambio qualcosa ecco il senso è quello il bambino offre alla morte che è considerata come un'entità vivente energetica come un egregore appunto il bambino offre qualcosa alla morte perché capisce che è questa energia che si deve affidare e all'energia del cambiamento che si deve affidare fa la sua offerta per ottenere in cambio qualcosa la trasformazione la trasmutazione ora andiamo ad aggiungere anche le nostre due cartine che sono quella della mamma e del portatore di buone notizie è in effetti carina questa cartina della mamma perché subito dopo abbiamo un quattro di coppe con una sirena quindi con un'energia femminile molto delicata molto ricettiva molto dolce interpretiamo adesso con queste due aggiunte quello che possiamo dire fra le varie opzioni per esempio sicuramente qualcuno di voi ragazzi dovrebbe dovrebbe fare attenzione al rapporto con la figura materna perché la figura materna in questo momento potrebbe essere o la persona con cui abbiamo dei problemi e delle difficoltà da risolvere o dei conflitti proprio chiari aperti o in alternativa la figura materna potrebbe essere colei che ci dà una mano colei che ci aiuta colei che ci porta informazioni utili notizie utili per andare avanti e per trasformarci io propendo appunto ovvio che essendo un oracolo ognuno di noi incanalera queste energie in modo diverso quindi vi devo già subito dire che per una piccola parte di voi ma veramente piccola si tratterà di problemi o con la figura materna o con figure femminili che ricalcano la figura materna quindi se siete uomini problemi con le donne se siete donne problemi con donne che hanno comunque un atteggiamento materno nei vostri confronti protettivo o comunque che per qualunque motivo per questioni di età magari sono più grandi di voi di età comunque tendono ad avere questo atteggiamento materno ma ma per la maggior parte di voi io invece credo che proprio una figura materna proprio un'energia materna sia quella che aiuterà aiuterà ci aiuterà a uscire dal conflitto ci aiuterà a capire che non possiamo avere tutto che dobbiamo vivere con quello che c'è cercando di migliorare di andare avanti ma cercando anche di accontentarci e di vedere il bello in quello che abbiamo potrebbe questa figura io vedo ovviamente una figura femminile ma anche un uomo potrebbe trattarsi anche di un uomo con una forte energia femminile un uomo che in questo momento sta manifestando la capacità di essere sensibile empatico questo e quindi ecco che proprio questa figura femminile materna potrebbe aiutare dare dei consigli portare qualche buona notizia e guidare il bambino verso la trasformazione verso la carta della morte e quindi verso il cambiamento molto bella come energia vediamo se gli angeli hanno qualcosa da aggiungere a tutto questo e ovviamente sono curiosa poi di vedere nei vostri commenti per quanto riguarda gli studenti di vedere di leggere le vostre interpretazioni e per quanto riguarda tutti gli altri di capire che cosa sta accadendo ma chi è soprattutto questa figura materna cioè in teoria potreste anche essere voi la figura femminile ma l'energia femminile materna che dà una mano a qualcuno in conflitto assolutamente sì potreste essere voi ecco la nostra carta abbiamo una regina di fuoco una regina di fuoco che ci invita proprio ad aprire le ali e spiccare il volo e a non sottovalutarci non avere paura di quello che siamo e non avere paura di non riuscire a fare quello che vogliamo cioè noi questa è una carta proprio che ci dice di non sottovalutarci di avere fiducia nelle nostre capacità di affermare la nostra indipendenza la nostra creatività la nostra capacità di fare le cose è molto bella come carta ed è molto bello come invito come sempre ragazzi spero di esservi stata utile per avere informazioni sui video corsi mandate un whatsapp e per il resto noi ci vediamo alla prossima